2-3 18-753 per l'atleta Merlini 20-0-89 per l'atleta Farao Cremaschi Andrea Polisportiva Berlusco e Merlini Michele Polisportiva Padernese in questo momento a contendersi l'ultima finale di questa specialità ed ecco il passaggio sul treguardo 18-717 per l'atleta numero 53 17-953 per l'atleta numero 24 17-953 per l'atleta numero 24 18-953 per l'atleta numero 24